Un gioco, un sorriso, una presenza discreta e qualificata. Dal 2009 ad oggi, la presenza dei volontari Abbi o Potenza nei reparti di cura dei pazienti più piccoli è stata una certezza per le famiglie e per gli operatori sanitari. Un contributo concreto al percorso di cura e assistenza di ragazzi e adolescenti che, grazie all'impegno dell'Associazione, ha garantito in molti casi il miglioramento delle condizioni di salute dei giovani assistiti, alleviando le lunghe giornate di permanenza in ospedale. Dopo la pausa forzata determinata dalla pandemia, i volontari Abbi sono tornati al lavoro e lo stanno facendo potenziando i servizi offerti, cercando di integrare la squadra. Nella giornata nazionale dedicata all'Associazione, nata in Italia nel 1978, anche a Potenza sono stati allestiti i banchetti per la raccolta fondi. In vendita, i cestini di pere, simbolo della giornata di quest'anno, per la raccolta fondi a sostenere delle attività Abbi. Questa è la nostra giornata nazionale, rivolta alla raccolta di fondi per potersi sostenere il nostro lavoro e il nostro volontariato all'interno dell'ospedale e anche per poter inserire nuovi volontari con dei corsi, volontari di cui abbiamo bisogno, perché il periodo del Covid ci ha un po' bloccati. Il contributo minimo è di 10 euro per delle pere, un cestino di pere che sono appunto il nostro simbolo e quindi affrettatevi a contribuire per questa nostra iniziativa. Ma è possibile accostarsi agli stand allestiti questo sabato in piazza Matteotti e al centro commerciale Iperfuture, domenica in piazza Don Bosco, per ascoltare l'esperienza dei volontari Abio e capire cosa significa svolgere il servizio in ospedale e cosa vuol dire decidere di essere ogni giorno al fianco dei piccoli ricoverati. Abio Potenza è un'associazione di volontariato che attiva qui a Potenza dal 2009 e fa parte del movimento Abio, un movimento che esiste in Italia dal 1978 e quindi quest'anno celebra i suoi 45 anni di attività. Ci occupiamo di rendere meno traumatico quello che è il periodo del ricovero ospedaliero dei bambini e degli adolescenti, quindi siamo al fianco dei bambini, a fianco degli adolescenti, a fianco delle loro famiglie. La nostra attività consiste in cose semplici, non siamo supereroi, siamo semplicemente delle persone che hanno deciso di mettere a disposizione degli altri il loro tempo perché siamo convinti che anche consentire a una mamma di allontanarsi un attimo per andare a prendere il caffè, intrattenere un bambino per fare un gioco, quindi serve a rendere l'ospedale un ambiente più vivibile e a ricreare quell'ambiente diciamo normale che ogni bambino, ogni adolescente vive nella propria casa.